Io sono Roberto Mancini, ho avuto la fortuna nella mia vita di fare giocatore di calcio per tantissimi anni e attualmente sono il CT della Nazionale Italiana. La grinta dei difensori italiani che penso che sia unica in tutta Europa, perché è molto difficile fare gol contro le difensi italiane. Mi ispira la libertà, la mia passione è fare sport. Ho visto che non potrò sempre fare il calciatore, però per forza farò l'allenatore. Il fashion è qualcosa che ti accompagna nella vita, perché tu devi vivere bene, così come lo stile. Avere Roberto Mancini per noi è una cosa fantastica. È un uomo autentico, è una leggenda del calcio italiano, permeato dagli stessi valori che contraddistinguono Polo e Shark. Polo e Shark è molto importante, da tempo già lavora con materiali riciclabili che credo siano fondamentali per il nostro futuro, per la nostra vita. Abbiamo condiviso con lui tutti i nostri progetti. Sapevo che ero un uomo vero, ma adesso ho scoperto che è anche un uomo estremamente attento ai problemi di oggi.